Svanisce all'ottantasettesimo la prima vittoria interna della Forti Sarezzo contro un Cavriglia rinunciatario causa anche le pesanti assenze per infortunie squalifiche. Ridotta all'organico, la squadra valdarnese ha portato in lista solo 13 giocatori, formazione che ha trovato il pari nel finale grazie a un infortunio del portiere Martinelli sceso in campo per l'indisponibilità di Claudio. Al tredicesimo del primo tempo vantaggio della Fortis, una rete propiziata da Banelli dopo un buon recupero e finalizzata con un assist millimetrico per Gelli che da breve distanza di testa manda alle spalle dell'incolpevole portiere Lovari. Al ventesimo arriva il pareggio del Cavriglia con Petri lasciato solo in aria su passaggio di Galli, 1-1. Nella ripresa al ventesimo la Fortis torna in vantaggio, palla inattiva calciata da Cannata che trova ancora pronto l'ottimo mercantini ad anticipare in mischia l'intervento del portiere Lovari che viene superato da un micidiale sinistro al volo. La Fortis cerca di arrivare ai tre punti ma a tre minuti dal novantesimo dopo una lunga serie di calci d'angolo nell'ultimo contestatissimo corner è il portiere della Fortis Martinelli a mettere dentro la propria porta un velenoso pallone calciato dalla bandierina che ha dato la rete a Del Chiappa e il pari il 2-2 al Cavriglia. Mirko, la torraca, sensazioni al termine di questo turno, ultima del campionato del giro di andata. Sul gol non dico niente perché è un errore ma c'era anche il sole che probabilmente ha dato noia, Matteo giocava dopo tanti mesi quindi è andato anche bene, purtroppo è stato un infortunio che ci ha condizionato la partita però per la partita posso dire che l'abbiamo preparata bene, abbiamo giocato contro una formazione sicuramente che ha ambizioni importanti quindi è stata ben giocata da noi, è stata giocata a tratti bene da loro, a tratti bene da noi quindi era abbastanza equilibrata. L'equilibrio della partita dimostra il fatto che se noi giochiamo da squadra con questi nuovi innesti i punti li sappiamo fare quindi l'atteggiamento è quello giusto, quindi c'è da perseguire questa strada e cercare di fare i più punti possibili per salvarci.